Ciao a tutte ragazze, eccoci qua per un nuovo video curiosiamo nel catalogo di Campania 17 in copertina c'è un errore di stampaggio allora, il mascara Bost It è a soli non 2,50€ come c'è scritto in copertina ma bensì a 1,95€ eccolo qui quindi quello che c'è scritto in copertina è assolutamente sbagliato il prezzo giusto del mascara è 1,95€ se ordini un prodotto scelta da pagina 4 a pagina 13 ok, invece se non acquistate nessun prodotto da pagina 4 a pagina 13 lo pagate 3,95€ eccolo qui il nuovo, cominciamo, nuovo mascara Bost It della Color Trend poi continuiamo con la nuova matita ombretto non retraibile sempre della Color Trend in 4 colorazioni allora c'è il Silver Spoon scusa, è questo qua eccolo poi abbiamo il Acqua Marine spero che riusciate eccolo qui il Pink Ruby scusate le mani ma lo smalto se ne sta andando non ho avuto tempo di rifare rifare la manicure quindi chiedo scusa e il Purple Star eccolo qui e sono in offerta a soli 4,95€ quindi il 1, 2, 3 e 4 le nuove 4 colorazioni poi proseguiamo con altre offertine e novità allora abbiamo eccoci qui offerta a tua scelta e abbiamo allora la BB Cream della Solution ha 8,95€ che già è un buon prezzo ma non quella matta quella normale 8,95€ poi se agli 8,95€ abbiniamo un euro possiamo avere la BB con il deodorante Dry & Pur se abbiniamo 2€ quindi per un totale di 10,95€ abbiamo la mousse la mousse vellutata per il corpo con burro di caretè africano e tartufo a 10,95€ se invece vogliamo facciamo gli 8,95€ più 3€ abbiamo fanno un 10,95€ abbiamo la crema idratante per i piedi alla noce di macadamia ecco qui i 3 set vedete anche qua BB Cream più un euro e così facciamo BB Cream e il deodorante BB Cream e la mousse a 10,95€ oppure BB Cream e la crema idratante alla noce di macadamia per i piedi a 11,95€ poi la nuova linea Lavon Care Intensive RIF abbiamo il trattamento idratante per le mani a 3,95€ la lozione idratante per il corpo sempre ad azione intensiva 5,95€ oppure il trattamento emolliente per labbra a 3,95€ se invece si vuole prendere tutti e tre i prodotti trattamento per le labbra l'ozione per il corpo e la crema a mani il tutto a 10,95€ e lo potete ordinare con questo codice qua tre prodotti e sono 10,95€ altra offertina allora abbiamo il correttore in stick della Ideal Flowers eccolo qua a 4,95€ due a 7,90€ ecco qua un correttore 4,95€ due correttori 7,90€ nelle colorazioni fair medium e dark qui invece abbiamo la cicci cream una cicci cream a 8,95€ due cicci cream a 12,95€ e queste sono le due 6 colorazioni abbiamo shell natural beige nude soft honey ivory e medium beige i nuovi 4 colori della color del rossetto sempre vivo bold eccoci qua quando carico il video metto nell'info box il link dove potete vedere gli swatch dei nuovi 4 colori in offerta lancio 6,95€ allora poi nipop sangria shock blood scusate singhiozzo bold bordeaux bold bordeaux e max mocha poi abbiamo altra offerta 3 terre 3 perle di terra solari a soli 18,90€ nelle due colorazioni carnagione chiara e carnagione scura tutte e tre a 18,90€ la nuova spugnetta spugnetta singolo per make up per il fondotinta e si usa asciutto per il fondotinta in polvere e umida per quello liquido o in crema ed è a 4,95€ nuovo pennellino per il correttore a 4,50€ nel video che vi metto dei rossetto bold faremo vedere anche i due pennellini abbiamo il pennello il pennellino duo per le sopracciglia eccolo qui il pennellino e il pennello due in uno sempre 4,50€ poi abbiamo il set perfetto per le tue unghie tre prodotti a 9,90€ odio scusate ho messo il dito tre prodotti a 9,95€ allora abbiamo il sovrasmalto con finitura satinata l'indurente anti-svaldature e la penna correttiva allora il sovrasmalto satinato l'indurente e la penna correttiva eccoci qua le super shock mattito ombretto a doppia estremità una 8,95€ 2 a 13,90€ e queste sono le colorazioni eccolo qui 1,8€ a 95€ 2 a 13,90€ e queste sono le colorazioni allora moonshine e star night poi abbiamo princess pink e royal velvet eccolo qui chocolate melt e cream dream ecco e ce fa no ce la donna e mint breeze eccoci qui continuiamo con dalla colazione scusate oggi ce la possiamo fare della collezione kate c'è il pretty magical eccolo qui con zucchero cosa c'è zucchero e prugna e fresa e cristalli di vaniglia eccolo qui questo è il nuovo profumo e ne sono usciti già altri 4 questo qui è il quinto e magari qualche giorno gireremo il video dove faremo vedere tutti e 5 questi profumi a 6,95€ poi eccolo qui abbiamo lo shampoo all'olio di argan con la maschera tutti e due a soli 5 euro spero che possiate eccolo qui shampoo più maschera all'olio di argan del marocco a soli 5 euro guardate che bellissima offerta oppure se volete li potete prendere anche se singolarmente lo shampoo 2,95€ e la maschera 3,95€ però secondo me è meglio prendere l'offerta due prodotti e 5 euro poi due shampoo da 700 ml quindi nel formato XXL a 7,90€ eccoli qui gli shampoo della linea Naturals a formato da 700 a 7,90€ poi dalla linea Herbal Naturals eccoci qui tutta la linea questa qui è quella con acqua di sorgiva e celidonia e le tre creme due prodotti a 6 euro perfetto poi acque profumate lozioni per il corpo gel doccia e i due balsami labbra due prodotti sempre a 6 euro ecco qui questo oppure ci sono i prezzi anche se volete sicuramente ma non ne vale la pena della linea Foodwork anche qui perfetto due prodotti scelta a 6 euro e 50 ecco qua i bubble bot che tra l'altro ci sono due nuovi bubble 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 bot però sono da 500 questi qua sì c'è la formula pH neutro con vitamina E e c'è il latte da bagno con rosa selvatica e burro di caretè che è questo eccoci qua oppure c'è il fiore di loto e aloe che è questo e anche qui c'è l'offerta dei due prodotti scelta 7 euro e 90 e queste sono tutte le altre profumazioni dei bubble bot tra cui potete scegliere e qui c'è la linea senses con il nuovo senses crema doccia idratante paper in divin che è vaniglia e sandalo se non sbaglio è una crema doccia e sono da 250 ml ecco qui sempre due prodotti 6 euro e 50 io però mi sono dimenticata di mostrarvi una cosa eccolo qui la nuova linea winter bloom dove e vi metterò giù nell'info box il link dove potrete vedere tutti gli swatch allora comprende il famoso mascara super shock nero che qui cambia solo il packaging con i fiorellini neri grigi e fucsia poi abbiamo tre nuovi smalti eccoli qui che sono il cotton scusate candy eccoci qui il mulberry e il lavender lux ecco qui lux lavender mulberry e cotton candy proseguiamo con il nuovo blush ecco qui nella colorazione nell'unica colorazione è havenly pink perfetto anche lui con il packaging del mascara e poi tre nuovi rossetti guardate che bellino il packaging che è questo qui e qui altre tre nuove colorazioni allora vediamo il win berry è giusto win berry sì berry bright e pink dream eccoci qua e in ultimo il catalogo c'è l'offerta del trattamento senza risciacquo per tutti i tipi di capelli sempre all'olio di argan a 3 euro e 95 ecco qua questo è quello che alcune delle cose e delle offerte che si potranno trovare nel catalogo della campagna 17 spero che il video vi sia stato utile se avete qualche domanda o qualche suggerimento o richiesta da fare lasciate giù un messaggio e noi vi risponderemo subito vi mando un grosso bacio a presto ciao ciao ciao